dalla cardiologia alla dermatologia alla medicina estetica alle ecografie all'urologia o ginecologia solo per citarne alcune a pancalieri piccolo paese del torinese i trattamenti medico chirurgici e le visite specialistiche si trovano riuniti in un'unica struttura con il centro santa monica e il centro medico di riabilitazione dentale per offrire un'assistenza medica più completa possibile grazie a tutti